Diciamo che ognuno di noi è una combinazione unica di geni, di fattori genetici e quindi questi fattori genetici incidono sul nostro rischio di malattie. Incidono ma non da soli perché la nostra costituzione genetica ci permette di reagire in maniera diversa a quello che ci viene dall'esterno anche agli alimenti. C'è un bellissimo studio americano di qualche anno fa che ha analizzato alcune corti di popolazione seguendole nel tempo per il rischio di malattia coronarica quindi per il rischio cardiovascolare. Complessivamente sono stati studiati, sono stati seguiti oltre 55 mila individui e questi individui erano stati caratterizzati geneticamente nel senso che era stato valutato il loro rischio di malattie cardiovascolari sulla base di 50 varianti genetiche che nel corso degli anni si sono dimostrate incidere sul rischio di malattia coronarica. Beh quello che si è visto è che le persone che erano ad alto rischio genetico ma che avevano uno stile alimentare appropriato e quindi uno stile alimentare che prevedesse un consumo soprattutto di cereali non raffinati, di frutta e verdura fresca, di pochi grassi di origine animale eccetera. Quello che noi sappiamo essere poi il fondamento anche della dieta mediterranea, beh chi aveva questo stile alimentare aveva un rischio di malattia cardiovascolare praticamente dimezzato rispetto a chi aveva invece uno stile alimentare a rischio quindi con consumo di molti cibi raffinati, alto indice calorico, le classiche bevande zuccherate quindi alimenti ricchi di zucchero e quindi consumava poca frutta e verdura fresca. Quindi identificare quelle caratteristiche genetiche che ci permettono di rispondere in un certo modo all'introduzione di alimenti o farmaci è fondamentale. Il punto è che quello che a volte gli studi non tengono presente è la complessità del nostro genoma per cui se noi andiamo a indagare singole varianti genetiche spesso possiamo avere un'informazione fuorviante. Noi dobbiamo aumentare il numero delle conoscenze proprio perché per trasferire alla pratica queste informazioni abbiamo bisogno di considerare il maggior numero possibile di varianti che si siano dimostrate potenzialmente correlate alla risposta agli alimenti o ai farmaci e quindi diciamo molto utile al momento continuare la ricerca non siamo ancora pronti probabilmente a trasferirlo nella pratica.